È stato un 2021 con brillanti risultati per il Fiat 500 Club Italia che vede crescere il numero dei suoi soci. Sono stati quasi 22.000 gli appassionati della mitica bicilindrica che hanno scelto l'associazione che conta ottimi numeri anche in Sardegna. Il sodalizio dedicato alla piccola grande auto può infatti contare su una squadra composta da sette fiduciari responsabili di altrettante aree geografiche denominate coordinamenti. Si tratta di Gianni Carbini per il Medio Campidano, Giacomino Dejana Tempio Pausania, Antonio Dejana Olbia, Silvana Meloni Oristano, Franco Pira Scagliari, Antonio Sanna Oliena Nuoro e Domenico Giuseppe Soggio Alghero. Quest'ultimo ricopre anche il ruolo di referente regionale. Anche in questi due anni di pandemia il Fiat 500 Club Italia ha continuato ad impegnarsi per i propri soci e a realizzare raduni ed altre iniziative che coniugano la passione per il motorismo storico alla scoperta del territorio. Uno dei punti di forza degli appuntamenti organizzati dai coordinamenti sardi sono i tour più o meno lunghi, a volte della durata di più giorni, con la possibilità di visitare borghi, aree naturalistiche, siti archeologici e monumenti vari. Nel luglio dello scorso anno il Fiat 500 Club Italia ha realizzato il primo World Wide Meeting, una a tre giorni con un centinaio di eventi in tutto il paese e in una ventina di nazioni estere. Anche la Sardegna ha fatto la sua parte riunendo gli appassionati a Cabras per visitare il Museo Civico Giovanni Marongiu e ammirare, tra le altre cose, le statue dei giganti di Montibrama. Nell'ottobre 2021 una rappresentanza di cinque centisti ha assistito il team composto da Carmelo Cappello Francesco Cozzula al quarto rally storico Costa Smeralda, mentre a dicembre oltre 40 vetture si sono dati appuntamento sul piazzale della Chiesa Romanica di Santa Maria a Uta per il raduno monumenti in cinquecento. A Tempio Pausania inoltre è stata fatta tappa per ogni cinquecentista o appassionato di veicoli d'epoca in generale per una visita alla collezione curata da Giacomino Dejana, il Museo Piccoli e Grandi Motori che espone naturalmente molto materiale a tema a cinquecento ma non solo, ha anche tanti altri mezzi a due e quattro ruote, oggettistica e opere d'arte, ma l'attività del club non riguarda solo i raduni e i viaggi.